Però quindi se si può arrivare al 70% e poi come dicono di anno in anno queste tecnologie si migliorano quindi si riesce a prendere più energia dal sole, più energia dal vento, non si può semplicemente andare in questa direzione e migliorare gradualmente? No perché il sole e il vento non ci sono sempre, cioè il vero problema non è prendere sempre più energia dal sole o sempre più energia dal vento, il problema è accumularla. Ciao a tutti e benvenuti al quinto ed ultimo video di una serie di approfondimento sull'energia nucleare che ho girato insieme all'avvocato dell'atomo, fisico e divulgatore. È possibile per l'Italia ritornare a produrre energia nucleare? Come si potrebbe fare? Ci sono altri paesi che come l'Italia hanno diciamo proibito l'uso dell'energia nucleare civile? Sì ce ne sono alcuni anche se nessuno l'ha mai fatto spegnendo dei reattori accesi, sono l'Austria, l'Irlanda, il Portogallo, la Danimarca, in Europa basta mi sembra che hanno un divieto proprio, c'è un altro paese che ha vietato completamente l'energia nucleare che è il Paraguay, l'Australia e forse anche la Nuova Zelanda ma su quest'ultimo non sono sicurissimo. Questi sono i paesi che hanno in vigore proprio delle politiche antinucleari. Ci sono poi altri paesi che ovviamente non hanno il nucleare ma non lo escludono in linea di principio o comunque non si oppongono al nucleare fatto da altri. La Norvegia non ha il nucleare, non ne ha neanche bisogno francamente, ma non si oppone ai piani di sviluppo nucleare dei suoi vicini di casa. Mentre invece l'Austria per esempio si oppone ai piani di sviluppo nucleare degli altri paesi europei, cioè lotta perché gli altri non ce l'abbiano. E lo stesso fanno la Danimarca, l'Italia per certi versi. Poi ci sono alcuni paesi che hanno annunciato un phase out, quindi che adesso hanno ancora il nucleare ma hanno annunciato che lo abbandoneranno e sono ovviamente la Germania e il Belgio. C'è anche la Svizzera che aveva detto, al termine, cioè ha detto noi non chiudiamo i reattori in anticipo ma quando avranno finito la loro vita operativa basta. Però stanno già un po' tornando sui loro passi, per cui bisognerà vedere da qui al 2035 se cambierà qualcosa. Quindi questo è lo stato del nucleare, dei paesi che sono contro il nucleare. Quindi a livello globale c'è una sorta di diminuzione dell'uso dell'energia nucleare? No, a livello mondiale c'è un aumento enorme, tanto perché la Cina da sola pianifica di fare tutti i reattori che ci sono oggi nel mondo entro il 2060. Oggi nel mondo ci sono 440 reattori operativi, la Cina punta ad averne qualcosa come 350 da qui al 2060 da sola. Poi perché ci sono moltissimi paesi che invece stanno costruendo o intendono costruire reattori. Vi hanno citato prima il Bangladesh, poi c'è l'Egitto, 4 reattori in costruzione, la Turchia, 4 reattori in costruzione. Si stanno ormai avviando i reattori negli Emirati, i primi due sono già stati avviati il 3 gennaio, il 4 gennaio dell'anno dopo, a un anno di distanza. Abbiamo il Brasile e l'Argentina che hanno annunciato che riprenderanno a costruire reattori. Negli Stati Uniti sono ripresi finanziamenti al nucleare, puntano molto sulla quarta generazione. In Europa tra i paesi che hanno intenzione di costruire nuovi reattori ci sono la Slovacchia, la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Polonia e l'Estonia che non ne hanno ma hanno detto che li faranno. L'Ucraina ha fortissimi piani di sviluppo nucleare perché con la crisi che c'è stata, la crisi geopolitica che c'è stata con la Russia, l'Ucraina non vuole dipendere dalla Russia per nessun motivo al mondo. E quindi hanno detto che costruiranno 5 nuovi AP1000, creattori americani. L'Inghilterra ha forti piani di espansione nucleare annunciati proprio qualche giorno fa nell'ottica di raggiungere la neutralità entro il 2035. Moltissimi paesi africani stanno guardando al nucleare, anche perché in Africa il nucleare può essere uno strumento molto utile per lottare contro la desertificazione, puoi usare il calore di scarto dei reattori per desalinizzare l'acqua di mare e utilizzarla per irrigare e quindi rendere coltivabili aree desertiche, questo ovviamente è molto importante in alcuni paesi africani. Per cui ci sono paesi come il Kenya, la Nigeria, la Tunisia, il Ghana, il Rwanda, l'Uganda, che stanno tutti sviluppando piani nucleari. Ovviamente loro sono molto indietro, devono proprio partire da zero, quindi difficilmente vedranno un reattore, cioè inizieranno magari ad avere reattori attivi negli anni 30, ma non di meno ci stanno lavorando. Il Ghana ha già attivo un reattore di ricerca per la produzione di radioisotopi medicali e lo stesso mi sembra sia l'Uganda, però non vorrei far confusione, ne sta costruendo uno. Quindi il nucleare in realtà nel mondo è in crescita, in Europa occidentale è in calo. Già solo se guardiamo al quadro europeo nel suo insieme, non ci limitiamo ai paesi occidentali, già questo calo è molto meno marcato. Quindi in Italia si potrebbe per esempio ottenere tutta l'energia necessaria con le rinnovabili, perché a differenza per esempio dell'Inghilterra o altri paesi abbiamo comunque molto sole, molto vento. Abbiamo molto sole, che abbiamo molto vento è falso, proprio ne abbiamo pochissimo di vento, siamo uno dei paesi meno ventosi d'Europa, perché abbiamo due dorsali di montagne che bloccano i venti. Quindi in Italia vento ce n'è un pochino al sud, le coste della Sardegna per le olic offshore, ma le olic offshore ad oggi non è per niente conveniente economicamente. Il sole è vero, ne abbiamo soprattutto al sud, abbiamo un'insolazione abbastanza elevata, la Sicilia potrebbe raggiungere il 25% di fattore di capacità con l'energia solare. Cosa vorrebbe dire? Vuol dire che è come se i tuoi pannelli potessero funzionare a massima potenza per il 25% del tempo. Ovviamente è una media, in realtà funziona a massima potenza per meno del 25% e poi funziona a potenza ridotta per un certo tempo. Che è un valore alto per i pannelli solari. È un valore alto per i pannelli solari, la media mondiale è 18%. Ovviamente in paesi scandinavi parliamo del 7%. Allora, in Italia è molto difficile che arriviamo a oltre un 50% di rinnovabili. Ci sono alcuni piani, non so dire quanto realistici, che promettono il 70%. Il 70% di energia rinnovabile. In Italia abbiamo un 15% di idroelettrico, per fortuna l'Arco Alpino offre dei corsi d'acqua adeguati. Faccio fatica a pensare che in Italia si possa arrivare a un 30% di eolico che servirebbe per fare il 70% dei rinnovabili. Ma magari sbaglio io, magari si può arrivare al 70% dei rinnovabili in Italia. Il punto è l'altro 30% con cosa lo fai? Perché se siamo d'accordo che si può arrivare al 70%, io ne dubito, ma facciamo finta, siamo tutti d'accordo che non si può arrivare al 100% in Italia. In generale non si può arrivare al 100% di energia rinnovabile in quasi nessun paese. Fanno eccezione solo quelli che hanno enormi risorse idroelettriche, come la Norvegia, parti del Canada, l'Islanda che ha idroelettrico e geotermico, la Nuova Zelanda che ha molto idroelettrico, paesi così, ma sono l'eccezione. Ma oggi quanta percentuale di energia è prodotta dalle rinnovabili in Italia? Oggi noi arriviamo al 40% di produzione di energia elettrica da rinnovabili. Attenzione però, l'energia elettrica è solo una parte dei consumi energetici. Abbiamo poi i riscaldamenti, che è molto difficile fare con le rinnovabili, perché sole e vento non producono calore, cioè il fotovoltaico e l'eolico non producono calore. Quindi devi andare a fare le pompe di calore in tutti gli edifici, che non è facilissimo, cioè non è immediato, ecco, non dico sia difficile, ma non è immediato. Poi oltre ai riscaldamenti c'è ovviamente la mobilità, e quindi stiamo cercando di convertire, fare sempre più auto elettriche, ma questo comporterà un aumento dei consumi elettrici, e non è detto che le rinnovabili riescano a coprirlo. E poi ci sono i consumi industriali, e anche lì bisogna vedere come si riuscirà a coprirli con le rinnovabili. In ogni caso oggi le rinnovabili fanno il 40% dell'energia elettrica in Italia. Però quindi se si può arrivare al 70% e poi, come dicono, di anno in anno queste tecnologie si migliorano, quindi si riesce a prendere più energia dal sole, più energia dal vento, non si può semplicemente andare in questa direzione e migliorare gradualmente? No, perché il sole e il vento non ci sono sempre. Il vero problema non è prendere sempre più energia dal sole o sempre più energia dal vento, il problema è accumularla. E ad oggi le tecnologie di accumulo esistono in forma molto limitata. Sostanzialmente esistono l'accumulo idroelettrico, quindi ho un bacino, pompo l'acqua su, e poi la scarico, faccio girare una turbina quando mi serve energia, che è buono ma richiede una geografia specifica, e in Italia lo abbiamo già saturato. C'è l'accumulo a batteria che non siamo neanche lontanamente vicini agli ordini di grandezza necessari, cioè i più grandi sistemi di accumulo oggi fanno un gigawattora di accumulo, laddove per mandare avanti gli tagli rinnovabili servirebbero centinaia di terawattora. E poi ci sono tecnologie ancora molto poco mature, come l'idrogeno. Oggi però l'idrogeno ha dei rendimenti veramente bassi. Parliamo di sprecare tra il 70 e il 90% dell'energia per salvarla, cioè per stoccarla con l'idrogeno. Quindi questo cosa vorrebbe dire che non è possibile fondamentalmente utilizzare solo le rinnovabili? No, non è possibile in Italia o in qualunque paese che, ripeto, non abbia enormi risorse per l'idroelettrico. Tutti quei paesi che non hanno abbastanza idroelettrico devono affiancare alle rinnovabili una fonte continua che o emette CO2 o è il nucleare. E questo anche nel futuro previsto, diciamo, a breve termine. Nel futuro previsto, sì. Nel libro di Bill Gates ha scritto il libro, Come evitare un disastro climatico, e mentre lo presentava qualche anno fa in una trasmissione televisiva, ha detto molto chiaramente o arriva un monster miracle sullo stoccaggio di energia oppure c'è il nucleare. Non ci sono altri modi per, come dire, contrastare il cambiamento climatico azzerando le emissioni. Poi le rinnovabili ovviamente hanno una parte importante nel ridurle. Però senza nucleare non si arriverà mai al famoso net zero. Come si potrebbe fare, tecnicamente, in Italia, delle nuove centrali nucleari? Allora, in Italia, come abbiamo detto, i referendum non hanno mai introdotto un divieto di nucleare. E neanche il secondo? No, neanche il secondo. In Italia esiste il referendum abrogativo, quindi quel referendum abrogava una specifica norma del governo Berlusconi che, diciamo, apriva la possibilità del nucleare in Italia, ma non istituiva un divieto. Quindi, per rintrodurre il nucleare in Italia basterebbe una legge ordinaria. È chiaro che deve essere fatta da una maggioranza politica che abbia in qualche modo un mandato popolare. Difficile che possa farla Cingolani, no? Perché un tecnico non ha un mandato popolare, si becca un altro referendum abrogativo in faccia. Però invece un governo con un mandato popolare forte potrebbe farlo, soprattutto se facesse già campagna elettorale annunciandolo. Quindi a quel punto, come dire, ho detto che l'avrei fatto, sono stato votato, vuol dire che la gente è d'accordo che io lo faccia. E a quel punto, fatta la legge ordinaria, inizierebbe l'iter burocratico, che consiste, che in realtà, nel nostro caso potrebbe saltare diversi passaggi, proprio perché abbiamo già avuto un programma nucleare in passato. Quindi, per esempio, abbiamo l'ente regolatore, ce l'abbiamo ancora, si chiama Isin, è chiaro che bisognerebbe potenziarlo. E poi bisognerebbe trovare i siti, di nuovo, un punto di partenza sono i siti delle vecchie centrali, perché, fintanto che non sono completamente smantellate, quei siti hanno ancora una licenza valida per ospitare edifici dove si utilizzano materiali radioattivi, e poi si tratta di scegliere la tecnologia. Diciamo che tutto questo potrebbe richiedere 3 o 4 anni, e poi si sceglie la tecnologia, e si trova un meccanismo di finanziamento migliore, poi ce ne sono diversi, ci sono finanziamenti pubblici, finanziamenti privati, meccanismi misti come il regulated business asset. Uno sceglie, ci si mette d'accordo ovviamente con l'azienda da cui si decide di comprare i reattori. Io ripeto, è facile che sarebbe la Francia, perché oggi le aziende che costruiscono reattori nel mondo, la Francia è quella più vicina a noi, anche dal punto di vista proprio di partnership commerciali, è il nostro secondo partner commerciale dopo la Germania, e a quel punto si costruisce. partendo da zero adesso, potremmo comunque avere l'abilità di avere anche le centrali nucleari più nuove a disposizione. Assolutamente sì. Infatti io credo che, siccome in Italia, secondo me prima o poi si tornerà ad avere il nucleare, ci vorrà ancora un po' di tempo, ma è probabile che arriveremo direttamente a costruire centrali di quarta generazione o reattori modulari, insomma. Che sono i più moderni? La quarta generazione esistono dei prototipi, ma la diffusione commerciale è prevista per gli anni 30. I reattori modulari, un po' prima, diciamo seconda metà degli anni 20, il concetto di modulare è trasversale alle generazioni, nel senso si tratta di reattori di piccola taglia, che richiedono investimenti minori, tempi minori, quindi promettono ritorni più immediati, quindi sono più attraenti da un punto di vista economico, e ci sono sia design di terza che di quarta generazione. Allora secondo me noi appunteremo soprattutto a quelli. Quindi come conclusione in Italia, quali sono secondo te le alternative nel prossimo futuro per le fonti di energia? Cioè perché ritieni che sia anche importante avere il nucleare e non continuare come stiamo facendo adesso? Allora innanzitutto perché ci siamo posti degli obiettivi di decarbonizzazione e vogliamo raggiungerli. E se quelli al 2030, che sono parziali, possiamo pensare di raggiungerli attraverso le rinnovabili, l'efficientamento energetico, che è una cosa molto importante in Italia, soprattutto per quanto riguarda il riscaldamento degli edifici, e un potenziamento dei trasporti pubblici, eccetera, eccetera, gli obiettivi al 2050, che sono il net zero, non possiamo raggiungerli senza energia nucleare. Net zero vorrebbe dire? Vorrebbe dire che le nostre emissioni nette sono nulle. Questo vuol dire che o non emettiamo niente o facciamo cattura della CO2 per compensare quello che emettiamo. E la cattura della CO2 è un processo energivoro, quindi vuol dire che se noi ci permettiamo di avere dei settori che ancora emettono, come possono essere certe industrie che sono molto difficili da decarbonizzare, penso all'acciaio, dobbiamo produrre dell'energia extra per risucchiare dall'atmosfera la CO2 che immettiamo con quelle industrie. Allora, questo è il net zero. Il net zero in Italia senza nucleare non abbiamo modo di farlo. Già oggi noi utilizziamo nel nostro mix energetico energia nucleare pari al 12% che importiamo dalla Francia e dalla Svizzera e dalla Slovenia. Quindi, di fatto, già oggi, che comunque consumiamo combustibili fossili per il 60% della nostra produzione di energia, già oggi ricorriamo al nucleare per importazione. Secondo me non ha molto senso continuare a importare, anche perché non è gratis, non ha molto senso rimanere, noi siamo uno dei paesi più dipendenti al mondo dal gas. Intanto siamo il primo net importer di energia al mondo. Cioè, pro capite o in totale? No, in totale. Pro capite, ovviamente, ci sono paesi che hanno dipendenze dall'estero anche più alte delle nostre. Prendiamo il Lussemburgo, importa al 100% della sua energia e quindi anche pro capite sarà più alta perché i lussemburghesi sono pochi e consumano tanto. Ma proprio a livello di quantitativo di energia importata, noi siamo i primi al mondo. Ogni tanto, tra Stati Uniti, Canada e Messico, ci sono degli anni in cui alcuni importano molto ed esportano molto, ma in generale poi tendono a bilanciarsi nel corso del tempo, per cui noi oggi siamo i primi net importer. Ma quindi quanto produciamo in percentuale all'interno dell'Italia? Allora, se ci riferiamo all'energia elettrica, noi importiamo 13-14%, ma il problema è che poi l'energia primaria noi importiamo anche quella. Cioè l'energia elettrica noi poi la ricaviamo quella che non importiamo, la ricaviamo dai combustibili fossili che però importiamo. Quindi la nostra dipendenza dall'estero è di fatto prossima all'80%. Perché proprio noi importiamo il petrolio che usiamo nelle nostre macchine, il gas che usiamo nelle nostre centrali elettriche, in più importiamo un ulteriore 13-14% di energia elettrica, quindi abbiamo una dipendenza dall'estero che è molto forte e tra l'altro che ci mette nelle mani di paesi che non sono proprio democratici e civili. Quando mi chiedono che differenza c'è tra essere dipendenti dall'estero per l'uranio ed essere dipendenti dall'estero per il petrolio è che l'uranio lo compri dal Canada, il petrolio dall'Arabia Saudita. I canadesi tendenzialmente non lapidano le donne e non bombardano lo Yemen. C'è un po' questa differenza qua, che se devo scegliere a chi dare i miei soldi preferisco darli a un paese democratico, dove il rispetto dei diritti umani è garantito. Due su tre dei più grandi paesi produttori di uranio al mondo sono per fortuna paesi democratici, sono il canale dell'Australia. Quindi c'è un problema di dipendenza energetica enorme che dobbiamo risolvere in Italia, c'è un problema di decarbonizzazione che dobbiamo risolvere in Italia e c'è anche un problema di costo dell'energia che dobbiamo risolvere in Italia, perché noi oggi stiamo registrando questa intervista in un momento di picco del prezzo del gas che sta provocando una crisi energetica in tutta Europa. Ora, magari questo picco passerà, ma in generale il fatto di essere così dipendenti dai combustibili fossili ci espone a delle crisi sistemiche che si verificano ogni qual volta si vanno a esaurire le risorse note, ogni qual volta le riserve note, ogni qual volta c'è una qualche crisi geopolitica per cui la Russia chiude i rubinetti, eccetera, eccetera. Quindi tutte le alternative, aumentare le rinnovabili, continuare come adesso, eccetera, non sono sostenibili sia dal punto di vista ambientale, economico e politico. Essenzialmente sì, aumentare le rinnovabili può essere fatto, ed è anche giusto farlo, ma abbiamo detto prima si arriva a un limite oltre il quale non riesce ad andare. Continuare come oggi vuol dire continuare in una maniera ecologicamente ed economicamente non sostenibile. Grazie a tutti per averci seguito in questa lunghissima serie. Ci vediamo al prossimo video. e per averci seguito